Allora, nel mondo ci sono tante difendenze e le donne ormai sono quasi più difendenti degli uomini, difendenze dal fumo, dalla droga, dall'alcol, ma la difendenza è in assoluto più grave, secondo me ce l'ha l'uomo, solo in particolare l'uomo, è la difendenza dalla violenza sessuale nei confronti delle donne, è inconcepibile, è una cosa stupida, non c'è orgoglio, non c'è rispetto, non c'è fiducia, non c'è amore, non c'è quella cosa che prima c'era, io vado dai miei nonni e vedo che dopo una letiata, che sembra la terza guerra mondiale tra di loro, dopo 5 secondi o si baciano o fanno pace, vanno a giro con la mano nella mano, questo non c'è più adesso, perché è colpa dell'uomo, forse è colpa della donna, non lo so, so soltanto che per l'uomo questa è veramente una debolezza, una debolezza che va affrontata in maniera diversa, perché è una cosa proprio inconcepibile. secondo me l'uomo ha bisogno solo di una cosa, di più tranquillità, più relax nei confronti della loro partner e meno violenza, ogni anno aumentano e non diminuiscano mai, è un po' come la crisi, se continua ad andare sempre avanti dominerà tutti. Grazie. Grazie.